Ho fatto degli incontri su tantissimi argomenti, guerra, pace, ambiente e il giorno della memoria e il giorno della fantasia e oggi affrontiamo un tema particolare, sono i bambini GIC, che sono bambini che hanno tanti tipi di mente, poi ce lo racconterà molto bene Daniele. Prima di incontrare Daniele vi lascio alcune informazioni di servizio. Il prossimo appuntamento non perdetelo perché è il 29 marzo, l'ultimo appuntamento di quest'anno sulla cultura della legalità. Le informazioni di servizio. L'attestato di partecipazione sarà disponibile da domani sul sito della Casa Editrice, la pagina I tuoi eventi. Sarà disponibile per tutti coloro che partecipano in diretta ora o che si collegheranno entro le 23.59 di oggi. Chi partecipa con il link che ha ricevuto sulla mail avrà l'attestato, come dicevamo, e avrà anche le slide che proietteremo oggi e poi un preziosissimo materiale che Daniele Aristarco ha preparato per noi, che sono proprio dei podcast su delle storie speciali. Le domande, aspettiamo le vostre domande, i vostri commenti, alla pagina tuadomanda.it indicando il codice 29878 oppure potete inquadrare il QR alla vostra sinistra. Oggi poi avremo anche un ospite speciale che incontreremo al termine della presentazione di Daniele, e quindi vi lascio un po' sulle spine perché non voglio anticipare nulla. Do il benvenuto a Daniele Aristarco. Buonasera, buonasera Cristina, buonasera a tutti. Grazie di essere qua, anche se oggi hai un pochino di mal di golo, sei un pochino malato, ma non hai rinunciato a questo incontro con i nostri insegnanti e quindi ti ringrazio anche di questo. Allora, Daniele Aristarco, sono tutti qui per ascoltarti, per cui non avresti bisogno di presentazioni, però insomma io lo dico per i pochissimi che ancora non ti conoscono bene, è un autore per ragazzi di racconti, di testi, di saggi divulgativi, è pubblicato in Italia e anche in tantissime lingue. Si occupa di laboratori di scrittura, di teatro e incontra ogni anno tantissimi, tantissimi ragazzi e ragazze nelle scuole, nelle librerie, nelle biblioteche, nei festival. Per noi cura questa rubrica di educazione civica appunto come dicevo prima ormai da tre anni e poi ha anche stato ospite nel nostro sussidiario del 2023 che si chiama Il mondo che vorrei. Quindi iniziamo subito, Daniele, affrontando questo tema che è estremamente interessante e anche un po' curioso, già dal nome che hai scelto di dare a questi bambini. Beh, allora intanto io ti ringrazio e questa sera in maniera particolare, perché questa sera c'è una fiducia ulteriore nei confronti delle riflessioni che cercherò di condividere. Questa riflessione nasce da il lavoro che effettivamente io faccio tutti i giorni a scuola, nell'incontrare ragazze e ragazzi. Anche il titolo nasce da un episodio che racconterò. Nel frattempo però, Cristina, io inviterei, come è accaduto nella volta precedente, le persone che ci seguono a condividere anche le esperienze e le pratiche che ogni giorno svolgono a scuola, perché mi sono reso conto che effettivamente è un dibattito fondamentale e insomma nelle settimane precedenti ho avuto un grandissimo ritorno rispetto a quello che ci avevamo raccontati e altri esperimenti insomma mi sono stati sottoposti che mi aiutano anche a comprendere, no? Un po' come procedere nel nostro discorso. Allora, in questo caso... Sì, è vero, guarda, lo dico proprio perché l'altra volta, quando abbiamo affrontato il giorno della memoria, il giorno della fantasia, i contributi degli insegnanti che erano collegati sono stati preziosissimi, io li ho anche raccolti, perché molti insegnanti ci scrivono dicendo avete dei materiali per... Allora, noi abbiamo sul nostro sito, ci sono tantissimi materiali dedicati alle giornate speciali, però il contributo degli insegnanti è stato ancora più bello proprio perché abbiamo potuto mettere anche indicazioni di sperimentazioni proprio già consolidate dagli insegnanti. Quindi, partecipate. Ripeto, chiedo scusa per la voce, ma questa sera purtroppo stavo provando prima di impostare la voce in maniera più teatrale, ma risulterebbe faticosissimo per tutti. Allora, parto da questo. Il titolo di questo incontro è un po' un'affettuosa citazione di un famoso detto di Antonio Gramsci del 1919, fondamentalmente lui diceva abbiamo bisogno di tutti i tipi di mente, abbiamo bisogno di tutta la vostra intelligenza, di tutta la nostra intelligenza, invitava le persone a istruirsi. Il titolo, diciamo, di questo incontro è abbiamo bisogno di tutti i tipi di mente ed entreremo naturalmente nello specifico di questa affermazione. Ma per un istante sosterrei in questa frase gramsciana perché dopo l'incipit istruitevi perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza, Gramsci aggiunge due frasi. Dice agitatevi perché avremo bisogno di tutto il nostro entusiasmo e organizzatevi perché avremo bisogno di tutta la nostra forza. Queste frasi mi fanno sempre riflettere. la necessità di istruirsi, di organizzarsi, ma anche di agitarsi. E io in genere mi agito molto, cioè mi diverto, mi piace e godo dell'altrui agitazione quando vengo invitato a scuola, in classe. Soprattutto, Cristina, sai quando mi capita di tornare in una classe magari per 4-5 giorni di seguito, quindi fare dei laboratori che durano nel tempo. È un breve lasso del tempo. Una classe di ragazzi e ragazze fortunati, ad averti per un percorso. E poi sai che succede che quando cerco qualcosa, anche se non lo racconto alle ragazze e ragazze, in genere ad un certo punto loro una chiave, uno spunto me lo danno, mi portano verso. Insomma succede questo, che in genere quando vado in classe ho sempre con me uno o più quaderni su quale appunto quello che succede, le cose che mi colpiscono. Lo faccio insomma da quando incontro le scuole. Incontro in genere le primarie, ma anche le secondarie, insomma, di ragazzi e ragazze di varietà. E lo dichiaro esplicitamente. Quando parlo con loro dico, guardate, potreste finire nel prossimo libro. E loro accettano sempre sereni, come se fossero abituati. Sono un po' delle star in questo senso. Forse sono abituati ad essere interpellati come oracoli in alcuni casi. E mi succede sempre questa cosa. C'è un tempo che cambia naturalmente a seconda che mi trovi a parlare con bambini, bambino con ragazzi e ragazze. Ma insomma c'è un tempo iniziale per entrare in relazione, ma la relazione poi si crea subito. E io mi diverto molto con loro a smontare le storie, le parole, i sentimenti, i loro nomi. Ma avverto che, sempre che in generale loro non sono interessati ai meccanismi, o meglio sono interessati al gioco che gli sto proponendo, ma è un interesse laterale. Sono attratti più dalle narrazioni, dalle storie sicuramente, ma man mano che crescono sono abituati a sceglierse le storie che vogliono ascoltare. Quindi molto dunque sta nella capacità, nel creare questa relazione, questo ascolto, di attrarre le bambine e i bambini su un certo genere di storie che è in grado di aprire un dialogo. E a me è quella la cosa che fondamentalmente interessa, dare una spinta al dialogo, avviarla. Più attenti, più partecipi, le bambine e i bambini sono quando io, per così dire, non mi nascondo dietro le storie. Quando dichiaro da che parte sto, chi sono. Ma questo forse ha più a che fare con la mia modalità di racconto. Ma sento che sia per me che per altre persone, insomma, mi confronto con altre che fanno il mio stesso lavoro, in fondo non sono le storie o il modo in cui le raccontiamo ad accenderli. Quando entro in classe, quando incontro le ragazze e dei ragazzi, dei bambini e delle bambine anche piccolissime, in biblioteca, e sempre mi sembrano attratti da un mistero più profondo e più ampio. Io non so dirlo in un altro modo, quindi lo dirò così questa sera, ma mi sembrano stupiti dalla mia esistenza. Sono stupiti e curiosi. Sono, potrei dire, in ascolto, prima che delle storie, della persona. Cioè loro è un ascolto complessivo. Sento che sono completamente in ascolto. Ed è un ascolto che insegna. Fate caso. Genera tanto rispetto, comunque. Come? Genera tanto rispetto perché... Assolutamente. Anche perché è un ascolto molto, molto acuto e anche, diciamo, pericoloso. Ci siamo fatti sicuramente caso a quante cose apprendono le bambine e i bambini degli insegnanti da un piccolo dettaglio, ascoltando. Non riescono a ricostruire la vita intera, anche aspetti privati. Allora è un ascolto veramente totale. Ed è un ascolto che, secondo me, insegna. Insegna ad ascoltare. Mi viene in mente un libro che è L'ascolto educativo di Marchiori e Moroni. È pubblicato da Linea Edizioni. In questo libro, che raccoglie tanti interventi, si dà una definizione di quello che viene detto ascolto educativo. In questo libro, l'ascolto viene presentato come un concetto che comprende l'idea di attenzione, di interesse, di cura, di determinazione a comprendere il discorso dell'altro, di gogliere il senso più profondo. E l'educazione, naturalmente, è quel termine che riguarda il processo di formazione dell'individuo. Queste due cose assieme, a me sembra che siano, innanzitutto, le bambine e i bambini a riprodurlo tra loro quasi automaticamente, a includerci nel loro discorso. È la forma di inclusione più potente e più bella che io conosca e che si riproduce con modalità, tutto sommato, simili quasi in ogni contesto. E mi fa pensare al fatto che, in francese, il verbo apprendre ha il significato di insegnare e di imparare. Quando entro in cerchio e ascolto quel tipo di silenzio, quel tipo di ascolto, ecco, se ci penso, mi sento all'interno di questo tipo di processo. Una reciprocità. Assolutamente. Che parte da uno stupore reciproco. Tu, Cristina, prima facevi riferimento anche alle formazioni che abbiamo fatto negli anni scorsi. Ci siamo occupati, per esempio, della filosofia per i bambini e le bambine e abbiamo citato appunto questo stupore, no? Quello che i greci chiamavano zauma, nel senso filosofico c'è di meraviglia, ma anche di turbamento, che si porta quando ci si comincia a interrogare senza sapere dove si arriverà, no? È un processo che si fa assieme. Ecco, questo sentimento di stupore, se volete un poco pure francescano, nel senso pieno, no? Della vita, ecco, nel mio caso, si somma alla percezione di una stonatura di fondo. Cioè io avverto una dissonanza. È l'esperienza che facciamo quando si entra in una stanza, in un'aula, ma anche in un contesto alto, insomma in biblioteca, in libreria, incontriamo tante bambine, tanti bambini che ci accolgono, sono felici di vederci e stanno immobili. Restano immobili nei banchi e ci guardano, ci sorridono magari, ma rimangono immobili, mentre fuori la vita sfolgora e rigenera. Insomma, questo modo di accogliermi, restare immobile e guardarmi, mi sembra sempre in contraddizione con questa attenzione. È un atteggiamento che hanno imparato nel tempo. Ogni volta che mi risulta possibile, allora cosa faccio? Cerco di incontrare ragazzi e ragazze portandoli ad un certo punto fuori, se è possibile in giardino, cambiare stanza, insomma frammentare, no? Quell'incontro anche con delle pause. E durante queste pause, che servono più a me che a loro, io le osservo. Le osservo mentre non sono impegnati nel dialogo con me e prendo appunti. Ed è stato durante una di queste pause, Cristina, che ho incontrato per la prima volta queste parole che citavi all'inizio. E che non so quanti tra le persone che ci seguono conoscono. Io non le conoscevo, sinceramente. Vedo due gruppetti di bambini che si sbeffeggiano a vicenda dandosi del geek e del kig. Geek e kig. Segno queste parole sul mio quaderno e una volta in aula, insomma, vado al computer che c'è lì e le cerco. Perché sul dizionario non le avrei trovate, evidentemente. Così, un po' dal suono cerco di ricostruirle e capisco come si scrivono. E vengo a sapere che appunto geek è un termine che indica una persona che ha una forte passione per i computer, per i congegni tecnologici e che, diciamo, per la navigazione in rete e che parla quasi esclusivamente di questo. All'inizio era un termine che veniva utilizzato in maniera dispregiativa, ma adesso invece è anche una sorta di vanto, no? Cioè, essere consapevoli di sapersi orientare in quel mondo. Ricorda un po', diciamo, il termine nerd, che forse è più diffuso. Nerd però, se ho capito, attiene più a quelle persone che hanno come passione i videogame, i film, le serie tv, cioè una sorta di mondo parallelo di fantasia. Mentre invece questo è più specifico sulla tecnologia. E geek, ribaltato, specularmente diventa Kig, quindi indicando una persona che non ha nessuna conoscenza di questa materia tecnologica e soprattutto che si ostina a non informarsi. Quando torniamo in cerchio con questi bambini, io avverto che sto per parlare loro di qualcosa che a me sta a cuore, che è importante per me e che in qualche modo loro mi hanno dato quella benevolenza iniziale per condividerla. però avverto pure che quelle parole che loro hanno utilizzato non individuano solamente un certo linguaggio giovanilistico. Anche io, da giovane, ho utilizzato forse dei termini inventati o che avevo ascoltato e che avevano come scopo quello di tagliare fuori dalla conversazione persone di alte fasce di età. In questo caso non si parla solo di un linguaggio giovanilistico, ma proprio di un mondo al quale loro fanno riferimento, che raccontano, ed è un mondo dove apprendono, sperimentano, al quale io non ho accesso e che tendo anche un po' ad escludere quando parlo con loro. Questo episodio si è sommato ad un altro e mi è capitato di vedere in una scuola superiore in Nord Italia i ragazzi uscire dalla classe per andare in bagno, per andare in giardino, eccetera, e nel tragitto tra l'andare e il tornare accendere lo smartphone e ascoltare un brano, mandare un messaggio, controllare la posta. Ecco, e ho pensato anche che in questo caso in qualche modo il mondo delle loro relazioni, dell'apprendimento, delle curiosità è separato da quello della scuola e questa separazione in qualche modo loro imparano a gestirla, imparano a dividere queste due sfere. Quindi uno dei lavori che secondo me potremmo fare, adesso cercherò di dare qualche definizione di inclusione e di entrare un po' più nel merito, però è quello che facciamo sempre negli incontri pomeritani assieme, è ragionare su quali sono le strategie possibili, ma anche i segnali che le ragazze e ragazzi ci danno. Io ricordo bene per esempio lo sforzo che facevo alle elementari per conciliare la visione della mia maestra, delle regole scolastiche con quelle dei miei genitori. Alle medie questa fatica si moltiplicava per il numero di docenti che ho davanti più supplenti. Quindi credo che le ragazze e ragazzi dimostrano di avere una certa propensione o una certa capacità di includere nel loro ascolto quelli che sono i linguaggi degli adulti. Cioè è un lavoro che loro fanno che sanno insegnare agli adulti. Hanno un'elasticità perché riescono a entrare in un mondo che a volte non parla con il loro linguaggio e non parla nemmeno dei temi che stanno loro più a cuore, ma riescono contemporaneamente a coltivare quelli che sono i loro veri linguaggi. Per me inclusione significa anche questo. Cioè significa riuscire a creare anche un ambiente dove quei saperi, quel linguaggio e quei diversi modi di esprimersi abbiano una cittadinanza, possono averla. Nel tempo purtroppo capita invece che imparino a nascondere o a separare del tutto questi due mondi e quindi imparano a restare seduti anche se il cuore in qualche modo batte rispetto a quello che sta succedendo. Leggo tra i commenti che c'è un dizionario da decodificare. Assolutamente sì, ne parleremo poi con l'ospite che abbiamo dopo questa prima parte ma secondo me oltre al dizionario cioè la parte che ha a che fare con le espressioni con i modi di dire c'è anche proprio un mondo c'è anche proprio un mondo che è necessario imparare ad includere. Vuoi dire qualcosa Cristina? No, no, niente volevo dire mandiamo le slide magari chiediamo di condividerle così sì, adesso entriamo nel vivo del nostro della nostra chiacchierata perché la parola appunto che dedichiamo oggi è proprio questo geek no? E quindi siamo credo tutti curiosi forse era una delle delle grosse esatto delle grosse novità questa cosa dell'inclusione di questi linguaggi particolari oggi perché era completamente insolita come come titolo di di sì ho utilizzato questo termine perdono per mettere in evidenza che l'inclusione è un processo o una serie di processi che si mettono in atto e che riguardano tendono a hanno come scopo quello di consentire a tutti e tutti di esprimersi rispettando la specificità dell'essere umano e oltre a quelle che chiamiamo disabilità o che vediamo come difficoltà ci sono anche delle propensioni o delle capacità o degli interessi in qualche modo vanno inseriti uno dei temi insomma che si tratta ormai appunto partiamo proprio dalla giornata dei calzini spaiati che so che è un'iniziativa che ha preso piede all'interno della scuola italiana è una giornata che si è celebrata di recente mi pare il 3 febbraio se ricordo bene è un'iniziativa che ha lo scopo di sensibilizzare sull'autismo ma anche sulle altre diversità lanciando un messaggio di solidarietà e di inclusione è una proposta nata in una scuola elementare fiulana da una maestra che si chiama Sabrina Flapp e che in molti casi mi sembra si viene comunicata attraverso una sorta di condivisione soprattutto fotografica di calzini spaiati di classi di scuole che aderiscono all'iniziativa l'attenzione appunto è sulle diversità e questo è un modo per cominciare per provare a cominciare a parlare in classe di questo tema con i bambini e le bambine sì perché poi è una diversità che è ricchezza cioè avere il calzino spaiato non è più una cosa che ti lascia ma è guarda come riesco a essere bello o bella con due cose che sembrano dialogare tra loro ma invece arricchiscono e infatti diventa anche uno stile che molti bambini decidono di adottare per tutto l'anno è un gioco questo di smontare anche un po' un criterio per così dire estetico di giudizio e aumentare uno spazio di libertà ora però a me interessa mi sembra che possa essere interessante per noi ragionare un po' al contrario cioè capire che cos'è per noi che dobbiamo lavorare con loro la diversità visto che le bambine e i bambini hanno secondo me un approccio soprattutto nei primi anni di vita abbastanza elementare immediato rispetto alla diversità perché tutto è diverso tutti sono diversi e la diversità è un gioco a volte anche una scoperta ecco a mio parere possiamo riflettere sull'inclusione che i bambini offrono cioè sul punto di vista che ci offrono e su quelle domande che ci fanno e che non sempre trovano uno sbocco tra queste domande ce n'è una che io riporto qui l'ho riportata in inglese perché mi sembra che tenga diciamo la polisemanticità ecco del significato vedo che ci sono appunto delle insegnanti che dicono che è stato un grande successo nella scuola primaria è il 3 febbraio quindi ricordavo bene io sono sbagliata di mio infatti molti di noi siamo sbagliati in partenza la domanda che pone Harry Chesty che è uno psicologo dell'educazione è if they can't learn the way you teach can you teach the way they learn cioè un ribaltamento di prospettiva esattamente che mi sembra sempre no il punto che ci consente ribaltare la prospettiva ci consente di vedere naturalmente una serie di difficoltà ma anche di possibilità se non imparo se loro non imparano se i ragazzi e ragazze non imparano nel modo in cui tu insegni puoi insegnare nel modo in cui loro imparino cioè puoi cambiare il tuo modo riformulare il tuo modo di insegnare allora l'inclusione parte da questo principio no la frase mette in evidenza che non esiste diciamo un saper insegnare astratto eterno immutabile ma che bisogna sviluppare una capacità di riformulazione nella maggior parte dei casi per la questione dell'ascolto che raccontavo sono loro le bambine e i bambini a indicare qual è lo stile educativo quali sono le loro esigenze diciamo attraverso un certo tipo di ascolto sono in grado di spiegarci di raccontarci seppure in maniera magari sommaria quelle che sono le loro esigenze oggi sappiamo che questo lavoro quello di comprendere effettivamente come riformulare l'insegnamento sui casi specifici può essere più anche molto impegnativo talvolta disperante perché perché l'inclusione parte da un cambiamento di prospettiva per molto tempo sapete che si è parlato di integrazione quindi di fare in modo che all'interno di un gruppo per così dire omogeneo o percepito come omogeneo venissero inseriti degli elementi con delle apparenti o sostanziali diversità l'inclusione invece è un nuovo modo di guardare al passaggio del sapere all'approccio al sapere cioè quello di assecondare i meccanismi di apprendimento di ciascuno è una progettualità didattica che è orientata all'inclusione e comporta l'adozione di strumenti e di metodologie come per esempio l'apprendimento cooperativo il lavoro di gruppo eccetera sono cose che probabilmente conoscete sapete che il punto di partenza è quello di immaginare lo studente o la studentessa come un elemento centrale del lavoro partire dalle loro esigenze la presa in carico per così dire dell'alunno passa per l'intera comunità educante è un ribaltamento di alcune prospettive di alcune prospettive che probabilmente sono quelle che noi abbiamo assunto e riprodotto nel corso degli anni diventa indispensabile dunque predisporre quelle pratiche didattiche inclusive che migliorano e innalzano la qualità dell'istruzione ma a me pare che diciamo la premessa ineludibile nel lavoro che facciamo sempre è quello di ascoltare e di provare a conoscere quali sono le esigenze dei singoli studenti e provare a sviluppare delle strategie utili uno dei modelli che si utilizza spesso per ragionare su come le bambine e i bambini apprendono il cosiddetto modello PAC che è l'acronimo di visivo auditivo e cinestetico a modo semplice per capire il proprio stile di apprendimento anche quello dei bambini e delle bambine probabilmente lo conoscete sapete che questo concetto è stato sviluppato da psicologi e pedagoghi tra i quali Lillingham Stilman e la Montessori a partire dagli anni venti insomma e fondamentalmente questo modello ritiene che c'è uno stile visivo secondo il quale le bambine preferiscono stimolazioni visive perché ricordano meglio quello che possono vedere apprendono più velocemente si possono si possono dividere questo stile visivo in uno stile visivo linguistico in uno visivo spaziale chi preferisce lo stile visivo linguistico impara attraverso il linguaggio scritto quindi con attività di lettura e di scrittura chi preferisce lo stile visivo spaziale impara attraverso i grafici delle tabelle dei disegni lo stile auditivo ha una prevalenza appunto dell'ascolto si impara ascoltando si preferisce in questi casi leggere ad alta voce ascoltare ad alta voce ripetere ad alta voce studiare ripetendo ad alta voce è uno stile che può presentare delle difficoltà con i compiti scritti mentre lavora molto bene attraverso il dialogo le cosiddette interrogazioni sopro anche che grazie ai non so se tu questo l'hai constatato Cristina ma molti ragazzi molti ragazzi utilizzano anche adesso le tecnologie per registrarsi e riascoltare le lezioni cioè riascoltare la propria voce e questo è un altro modo di apprendere ci sono anche i podcast con le lezioni registrate per i ragazzi eccitubriani si si ma dicevo registrano la loro stessa voce si 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 quindi si riascoltano se stessi ed è probabilmente uno strumento anche che dà una sorta di serenità di autoriconoscimento anche perché io ho visto che adesso in molte scuole si usa già la primaria che i bambini magari dopo un lavoro di un gruppo presentino un powerpoint in cui raccontano quello che hanno fatto e lì spesso i bambini si registrano per riuscire a dire le cose senza bloccarsi o senza esattamente su questo questo poi farò un breve inciso magari se rimane alla fine un po' di tempo su un esperimento che sto facendo in alcune scuole proprio su questo tema l'altro stile è quello cosiddetto cinestetico cioè sono le persone che imparano toccando gli oggetti e in movimento questo tipo di apprendimento in genere fa fatica a concentrarsi se si tratta di stare a lungo immobili e ha bisogno se deve essere coinvolto insomma deve essere coinvolto in varie attività durante le lezioni e hanno spesso bisogno di pause frequenti movimento interruzione allora probabilmente tutti noi abbiamo diciamo uno stile di apprendimento che può muoversi dall'uno all'altro e in alcuni casi però vediamo che ci sono studenti e studentesse che riescono a muoversi solo su uno di questi linguaggi passerei a questo punto alla seconda slide per raccontare intanto non so vedo che ci sono molti commenti questo mi fa sempre piacere allora potete consigliare qualcosa relativamente a questo metodo ci arriviamo ci arriviamo alla fine vedo che c'è un commento i miei alunni si sono divertiti sia a colorare sia a scrivere alcune frasi sui calzini cartacei che abbiamo poi stessi sulla porta come ho letto anche essi con colori diversi in momenti di riflessione ecco quindi quello stimolo viene anche elaborato in maniera creativa naturalmente certo nelle scuole anche su questo uno dei commenti che è ricorrente è quello che sono una bella metafora i calzini perché per quanto sono colorati spaiati eccetera sono sempre calzini un po' come i bambini no per quanto diversi sono sempre bambini e bambini e bambine quindi voglio dire noi dobbiamo rispettarli nella loro individualità giusto appunto Cristina arriviamo proprio a questo a questa espressione che spesso mi accoglie quando entro in una classe in una scuola l'espressione a volte è questa questo è il nostro bambino o la nostra bambina speciale ecco questa frase non discuto ovviamente sullo scopo della frase mi è chiaro insomma la motivazione della frase a volte è un modo per cavarsi da un imbarazzo per così dire però mi fa riflettere sull'imbarazzo prima di un incontro in classe io cerco sempre un contatto con le docenti magari via mail e chiedo se ci sono bambine e bambini che presentano particolari necessità che a volte hanno delle curiosità particolari o non lo so hanno bisogno di qualcosa e io così mi preparo nel miglior modo possibile e però spesso cito questo episodio quando facevamo molti incontri a distanza soprattutto in lockdown chiedo questa cosa ad una docente mi dice no non c'è nessun problema e mi accorgo verso la fine dell'incontro che tra le persone che partecipavano c'era un bambino non vedente e non ero stato avvertito il mio lavoro si svolgeva moltissimo sulle slide quindi quel bambino era stato escluso dal discorso quindi evidentemente c'è a volte una difficoltà nel raccontare o un imbarazzo ecco questo è il nostro bambino speciale è una frase che mi fa pensare a una scena di un film che è quel fotogramma che vedete sulla destra nella slide è un fotogramma di un film di François Truffaut del 1973 che si intitolava in francese la nuit americana in italiano è stato tradotto effetto notte è la storia di un gruppo di attori di attrici un regista che sta in una truppa che sta realizzando un film ad un certo punto il protagonista che è Alphonse interpretato da Jean-Pierreau viene lasciato dalla fidanzata va in depressione non vuole girare più il film e tortura l'intera truppa chiedendo ai macchinisti agli altri attori ma secondo voi è vero che alcune donne sono delle streghe e continua a fare questa domanda ma alcune sono streghe alcune donne sono streghe fin quando Truffaut che interpreta se stesso nel film va dall'attore taglia corto e dice senti alcune sì altre no forse lo sono tutte forse lo siamo anche noi ma questo conta poco perché un film è come un treno che va avanti nella notte questa sicurezza di questa immagine di sicurezza di un treno che va avanti nella notte che marcia nonostante tutto rassicura l'attore che torna sulla scena allora speciali o no forse lo siamo tutti o nessuno ma qui non si tratta tanto diciamo dei termini che utilizziamo ma diciamo delle precondizioni necessarie per ragionare per dialogare per rapportarci con la classe e con l'esterno dire di un bambino o di una bambina che è speciale è probabilmente intanto un po' in contraddizione con l'idea di inclusione perché appunto per speciale ho messo una definizione diciamo comune intendiamo qualcosa di non comune di fuori dall'ordinario di genere particolare ma appunto l'inclusione abbiamo capito semplifico non me ne vogliate ma potremmo dire che è un processo che porta in rilievo le specificità di ciascuno e che tara l'insegnamento sui bisogni dei ragazzi e delle ragazze a me pare diciamo anche degli docenti degli adulti che collaborano che apprendono nel senso francese che diciamo prima con loro quindi risulta difficile collaborare su questi temi se non percepiamo tutto tutto come speciale in un certo senso e soprattutto se di questo tema non proviamo a parlare in classe come insomma ci stiamo riproponendo di fare sicuramente la giornata dei calzini spaiati e altre occasioni come queste sono un modo per ragionare ma devo dire che a me capita non di rado mi è capitato anche da docente sono stato per breve periodo insegnante di sostegno e mi colpiva che in alcuni casi bambini e bambini che stanno magari in quinta elementare non avevano mai avuto modo di affrontare il tema cioè di rendersi conto di come entrare in relazione effettivamente con le diversità di ciascuno in alcuni casi più evidenti ho detto che c'è un altro commento che è interessante pensa che per abbattere certi pregiudizi oltre ad educare i bambini occorrerebbe sensibilizzare i genitori sui temi della diversità visto che la diversità è la norma perché siamo tutti diversi sono assolutamente d'accordo cioè proprio questa è la questione anche l'altro commento che enfatizzare troppo le differenze crea ulteriori differenze cioè invece accogliere la differenza è diverso da enfatizzarla è proprio la questione dell'inclusione cioè rendersi conto che siamo all'interno di un ambiente dove ciascuno presenta delle differenze qui abbiamo parlato anche in un'altra formazione della distinzione tra il termine diversità e differenza differenza è qualcosa che noi decidiamo di portare con noi diversità è qualcuno che diverge cioè va verso una strada che noi non riusciamo a seguire che ci sembra diciamo allontanarsi da quello che noi vorremmo proporre quindi la diversità è un problema la differenza invece è qualcuno che viene e porta ferro dal latino o dal greco e in qualche modo sta portando un contributo e tutti portano un contributo tutti e tutte naturalmente bisogna creare un ambiente dove questo contributo è possibile esprimerlo per questo motivo Malaguzzi non parla di bambini speciali o di bisogni speciali ma di diritti speciali ci sono bambini porta il focus esatto parte sempre diciamo dalla necessità tutto il suo lavoro mi sembra di un'osservazione dell'interazione dei bambini con gli insegnanti gli insegnanti che osservano imparano dai bambini con i loro interessi quindi ecco questa è la dinamica per arrivare all'inclusione però ecco in questo caso dice ci sono bambini con dei diritti speciali quindi si tratta di vedere appunto la questione da un punto di vista da una diversa prospettiva c'è in più mi sembra diffuso un tema che noi abbiamo già affrontato tante volte ma mi sembra molto importante deve divenire una risorsa senza creare diversità esattamente è una risorsa beh il tema del quale stiamo parlando è che sta cambiando tutto dal punto di vista della percezione del racconto no di che cos'è l'identità sta cambiando tutto sta cambiando soprattutto lo spazio che i giovani si stanno prendendo che ha a che fare con il racconto di sé c'è uno spazio importante che è quello della ricerca della costruzione dell'identità è un paradigma che si è modificato al centro del discorso c'è la scelta contro la differenza e non la diversità contro quello che ciascuno può portare al gruppo e come abbiamo visto in molti casi anche se è un piccolo passo ma è un passo che va fatto soprattutto diciamo nei primi anni secondo me si può cominciare a prestare attenzione al nostro linguaggio e poi lo vedremo insomma con il nostro ospite più tardi si può anche cominciare a lavorare se oltre che sull'inclusione sulla non esclusione un altro tema secondo me che porta fortemente in rilievo il discorso sull'inclusione l'abbiamo visto per esempio quando abbiamo citato più volte la città dei bambini di Tonucci e che ci siamo resi conto che quando progettiamo un ambiente riprogettiamo un ambiente che deve risultare accogliente più comodo per chi ha particolari problematiche questo ambiente diventa più comodo per tutti quindi anche un ambiente scolastico un ambiente di apprendimento dove stiamo attenti a queste differenze non diversità diventa un ambiente dove tutti e tutti imparano più velocemente l'altra questione è che le esigenze delle bambine e dei bambini si modificano velocemente nel tempo e assieme alle esigenze dei bambini e delle bambine modificano anche per così dire i nostri radar che sono in grado di ampliare questo cono di percezione per questo motivo bisogna sviluppare questa attenzione questo ascolto nei confronti di diverse forme stili e modelli di percezione di organizzazione e rilaborazione dei segni c'è un'ultima questione che presenterò proprio in maniera estremamente sintetica anche perché anche questo è un tema che abbiamo affrontato ma mi fa piacere che si veda questa sera come tutti questi discorsi che facciamo Cristina ormai da tre anni sono legati tra loro un po' l'idea anche quella è la questione che naturalmente quando parliamo di inclusione parliamo anche di bambine e di bambini che arrivano da altri paesi che magari hanno difficoltà linguistiche o che presentano che hanno abitudini in linguaggi molto diversi c'è una frase che a me colpisce molto di Stokely Carmichael che è stato un attivista americano prima non violento poi vicino alle Black Panther poi uscito da quella storia ma sostanzialmente lui diceva questo se un uomo bianco vuole linciarmi è un suo problema se ha il potere di linciarmi il problema è il mio lui dice il razzismo non è una questione di attitudine è una questione di potere che cosa voglio dire che molto spesso alle bambine e bambini viene ripetuto questo mantra di essere se stessi no? sii te stesso credi in te stesso ecco è importante sicuramente a me sembra una formula a volte che viene tirata un po' troppo spesso fuori anche perché è molto complicato capire chi è questo te stesso che dovrebbe agire però soprattutto ecco di fronte a questa frase dobbiamo ragionare anche che inclusione significa creare un contesto dove poi effettivamente le bambine e i bambini possono essere liberi di far agire quel te stesso no? di che questo questo ammaestramento possa essere esplicitato senza che corrano il rischio appunto di essere di essere linciati andiamo ancora avanti perché poi il tempo corre ai miei sarò brevissimo faccio solo riferimento a questo cioè che no perché poi dobbiamo avere anche la possibilità di chiacchierare con il nostro ospite assolutamente cercherò di essere brevissimo su questo sappiamo che costituzione agenda e le linee si dispongono in un discorso appunto lineare sappiamo che la scuola deve essere aperta a tutti deve essere accessibile a tutti tutti devono avere pari dignità sociale ed essere uguali ma sappiamo pure che tutte quelle sfide che pone l'agenda 20-30 hanno un'attenzione particolare nei confronti di persone con disabilità e sappiamo anche che sono più difficili da raggiungere c'è una cosa però che vorrei dire solo questo su questo tema è che io a scuola ho sempre la sensazione di incontrare una capacità della scuola che non trovo fuori e mi ha colpito questa cosa perché l'ho ritrovata qualche tempo fa rivedendo diario di un maestro che probabilmente molti di voi avranno visto se non l'avete visto vi consiglio di farlo immediatamente il libro di un maestro riprende è un film che riprende l'esperienza di Albino Bernardini che per un anno scrive un libro dove racconta la sua esperienza di insegnamento a Pietralata che è un quartiere periferico di Roma il quale io tra l'altro ho vissuto e quindi ricorda un po' quei luoghi e lui racconta di come un giorno entra in classe ha difficoltà a dialogare con queste bambine e questi bambini ma fuori dalla scuola ci sono delle gru che stanno distruggendo delle baracche e le bambine e i bambini parlano continuamente di questo allora lui decide di parlare con loro di questa questione emergenza abitativa le baracche cosa sta succedendo naturalmente il passaggio successivo lui dice approfitto di questo racconto e provo a fargli scrivere qualcosa ma non tutti hanno semplicità con la scrittura e allora diciamo facciamo un disegno però un disegno fatto bene dove raccontiamo che cosa che sta succedendo e cosa ne pensiamo per mettere in piedi quindi questo atelier di disegni è costretto a spostare i tavoli a cambiare la disposizione delle sedie e ad un certo punto si affacciano sull'aula i chiamati da rumori i suoi colleghi e dicono ma che stai facendo stai facendo la rivoluzione e lui risponde no è solo più pratico ecco la scuola ha questa capacità no di studiare la costituzione l'agenda linea guida ma poi di trovare la soluzione pratica vado velocissimamente verso la fine così insomma cominciamo il nostro dialogo le storie ce ne sono alcune secondo me particolarmente interessanti e utili per le bambine e i bambini per affrontare questi temi con delicatezza e cominciare a parlarne alcune le raccontiamo in un nel podcast che sarà insomma a vostra disposizione la prima è quella di Temple Grandin che è stata forse la prima a ribaltare l'idea che una persona con autismo non è in grado di raccontarsi e qui suggeriamo anche una lettura che è siate gentili con le mucche di Petrice Masini che racconta proprio alle bambine e bambini è proprio rivolta a questa fascia di età la storia di Temple Grandin vado veloce tanto saranno nel podcast Stephen Hawking e concludo dopodiché lascio la parola all'ospite una delle espressioni che viene spesso utilizzata prima dicevo dei bambini speciali però a me capita ogni tanto di incontrare dei bambini che mi vengono presentati come bambini con la testa tra le nuvole mi è successo qualche settimana fa in una scuola del sud dove ho incontrato Fabio Fabio è un bambino con la testa tra le nuvole quando me l'hanno detto sono subito andato a cercare di riconoscerlo l'ho riconosciuto subito mi è stato subito simbatico perché oltre ad avere la testa tra le nuvole faceva molta fatica a stare fermo nel banco e mi sono ritrovato in lui perché anch'io ho sempre fatto molta fatica a stare fermo in un posto ma poi negli anni ho imparato a gestire questa cosa mentre invece non avevo la capacità di stare con la testa tra le nuvole molto ancorato a terra e quindi mi ha incuriosito tantissimo questo bambino abbiamo cominciato a fare questo laboratorio un laboratorio di scrittura nell'arco di più giorni anche qui e ad un certo punto cominciamo a parlare e racconto insomma una storia come si costruisce una storia proviamo a ragionare insieme e dico in genere in una storia il protagonista ha uno scopo e c'è qualcuno che si oppone a questo scopo e dico voi avete in mente qualche storia così? Le bambine e i bambini cominciano a raccontarmi i fiabbe ma molto velocemente passano a raccontarmi i loro terroristi cioè i loro desideri che vengono in qualche modo ostacolati in genere e da un fratello maggiore la mamma la nonna e vedo a questo punto che Fabio si accende e mi dice interrompe la conversazione senza alzare la mano eccetera ma in maniera molto pertinente dice però non sempre è un nemico e io capisco che mi vuole raccontare qualcosa e dico no non sempre è un nemico qualcuno ci può ostacolare pensando magari di impedirci un errore gli si accende gli occhi il giorno dopo mi aspetta sulla porta e prima dell'inizio del laboratorio mi racconta che lui si è reso conto solo da poco che suo padre non è un nemico perché il papà lo aveva ostacolato nei primi anni di scuola parliamo di bambini di 8-9 anni l'aveva ostacolato perché lui voleva giocare al calcio e non voleva fare i compiti e poi ad un certo punto però lo aveva sentito parlare con la mamma e dire però se gli piace se è una cosa che ama potrà coltivare tutte e due le cose e io dico Fabio sei stato davvero bravo perché hai impiegato poco a capirlo conosco persone che hanno impiegato una vita intera diversi anni di psicanalisi per arrivare alla tua conclusione quello che vuol dire è questo che spesso ci viene detto che le bambine e i bambini non devono essere degli specchi ma delle finestre no? cioè non dobbiamo pretendere da loro che ci restituiscano la nostra idea di sapere di mondo eccetera perché la scuola purtroppo ha questa responsabilità come ogni ambiente insomma di apprendimento cioè o consegniamo un'idea di mondo per come la conosciamo e quindi in qualche modo passiamo la palla di qualcosa che a volte nemmeno ci piace tanto oppure bisogna rivoluzionare quell'idea di mondo questo lo diceva Freire e non lo dico io non c'è una mediazione o si riproduce o si rivoluziona ecco io penso che bambini come Fabio bambine che incontrano ogni giorno non sono specchi sono specchi porte finestre sono nuvole che assumono tutte le forme che vogliono e che spesso noi ci possiamo anche godere il piacere di restare lì ed ammirare le evoluzioni oppure possiamo fare come faceva questo signore che c'è qui nell'immagine che è il neoflaiano che diceva che c'è un passaggio ulteriore che fa il sognatore che è un uomo con i piedi fortemente appoggiati sulle nuvole ecco io penso che le bambine e i bambini fanno ogni giorno un lavoro di inclusione con gli adulti cioè gli insegnano prima che lo disimparino come si fa appoggiare fortemente i piedi sulle nuvole e per ora io ho concluso spero vedo ci sono tanti commenti però a questo punto presenterei il nostro ospite assolutamente allora diamo il benvenuto a Nicola Brunialti eccolo ciao a tutti ciao Nicola grazie di essere venuto grazie a voi dell'invito a partecipare a questo incontro e mi presento Nicola Brunialti nasce come copy pubblicitario e ha fatto ha seguito alcune delle fortunatissime campagne pubblicitarie di alcuni prodotti molto conosciuti ma soprattutto dal nostro punto di vista lo amiamo per i suoi libri perché è un autore molto molto prolifico di 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 stupendi libri e anche autore di programmi televisivi e radiofonici ha scritto anche uno spettacolo teatrale con Simone Cristichi che insomma è un cantautore di grandissima sensibilità e ha partecipato anche a una delle canzoni più belle insomma scrivere una delle canzoni più belle che siano passate da quel carrozzone di Sanremo che voglio dire siamo proprio sul pezzo perché oggi sarà la seconda giornata di Sanremo per cui capiti insomma al momento giusto anche lì poi la cosa che è molto 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 interessante di Nicola Brugnialti che è uno dei motivi anche per cui abbiamo invitato oggi oltre al piacere di chiacchierare con lui è quello che è autore di un cartone animato che è specificatamente rivolto ai bambini con autismo quindi un po' un ribaltamento da questo punto di vista cioè veramente creare anche degli strumenti che possano parlare anche dei bambini o delle bambine che altrimenti hanno materiali che non sono pensati esattamente per loro invece questa cosa di costruire un materiale pensato proprio per questo tipo di bambini che però è adatto anche a tutti è veramente un po' una rivoluzione copernicana da questo punto di vista perché sembra sempre di parlare magari a una piccola porzione di popolazione invece parlare a bambini o bambine che hanno un'altra modalità di visione dell'essere su questa terra può invece essere un'inclusione profonda anche in un mondo che certe volte ci sembra di incommunicabilità e quindi credo io ho letto tantissimi commenti anche di genitori che hanno dei bambini delle bambine che sono hanno delle difficoltà in questo senso comunque che sono inserite all'interno dello spettro autistico che ne parlano con commozione di questo progetto che tu hai seguito Nicola proprio perché offre per loro una visione felice anche degli strumenti anche del divertimento perché diventa un piacere per i bambini e le bambine ma anche uno strumento di comprensione del loro punto di vista ci sono anche da questo punto anche altri esperimenti per far capire come vivono i bambini con DSA la scrittura o il mondo che gli sta intorno ecco è sempre modo anche per chi non ha quella non vive quella realtà per cercare di avvicinarsi e provare a capirla come è nata questa tua insomma interesse scusa faccio io la domanda Daniel scusa ma la trovo è trovata interessantissimo poi vi mettiamo anche il link perché questo cartone animato è disponibile su RaiPlay e quindi invito tutti a provare a seguirlo farlo vedere in classe o insomma cercare di avvicinarsi a questo mondo che sembra un po' sempre chiuso in se stesso e lontano da noi è stato un po' come sollevare il velo è stato strano pensare che non ci avesse ancora pensato nessuno io scrivo libri per ragazzi e sono un uomo molto fortunato perché questo mestiere in realtà è una scusa il mio piacere è incontrarli ragazzi quindi io scrivo ma è una scusa per incontrarli e questi incontri ne incontro migliaia per fortuna ogni anno in tutta Italia ecco mi sono accorto che quasi in ogni classe devo dire forse proprio in ogni classe ma insomma bambini con difficoltà di apprendimento o direttamente legati allo spettro dell'autismo che si chiama spettro perché appunto prevede un range da 0 a 100 in realtà sono tante le diversità come tutti sapete bene ecco erano quindi un gruppo di persone a cui io stesso avevo dedicato poca attenzione eppure ce li avevo lì davanti agli occhi anche la canzone un po' abbi cura di me in fondo me lo diceva abbi cura anche di loro e mi sono preso cura di tanti di tutti i bambini che sono la fortuna del mondo io non ho figli ma ho un milione di nipoti ecco invece quel pezzetto mi era sfuggito e quindi sentivo di dover fare qualcosa e ho incontrato una mamma che abita a Milano che ha due figli due gemelli tutte e due con autismo vive una vita molto complicata ovviamente e però ha notato che in televisione non c'era mai niente che fosse adatto ai suoi bambini che li attirasse perché i rumori erano troppo alti le luci erano troppo forti la storia non era abbastanza coinvolgente o non era abbastanza semplice ecco e allora mi hanno chiesto che ne pensi ti piacerebbe inventare una storia un cartone animato che li riguarda direttamente io insomma ho detto accidenti non aspettavo altro è buffo perché questo è un progetto inclusivo ma al contrario cioè abbiamo creato un cartone animato adatto specificatamente per i bambini con autismo ma che invece è ideale perfetto anche per un pubblico di bambini che ho imparato a dire neurotipici ho imparato un sacco di parole in questi due anni che ho studiato con dei medici perché io ne sapevo poco come tutti quelli che insomma affrontano il problema superficialmente invece ho studiato con due medici meravigliosi il professor moderato e sua moglie la dottoressa Pergolizzi che si occupano specificatamente di bambini con autismo ecco ho imparato un mondo di cose intanto che che loro è come se avessero un sistema operativo diverso dal nostro che non è una malattia non è una sindrome insomma loro hanno un sistema operativo diverso dal nostro per cui quello che li circonda gli arriva e gli viene decodificato in maniera diversa da quello che facciamo noi solitamente quindi è importantissimo imparare quali sono i metodi con cui loro decodificano il mondo che hanno intorno per raccontarlo in modo semplice loro è come se vivessero in un supermercato ecco se noi vivessimo in un supermercato noi riusciamo a distinguere la voce del pizzicagnolo che urla la musica che c'è in sottofondo le cassiere che parlano i rumori di sottofondo la radio ecco per loro invece è come se tutto avesse lo stesso volume nello stesso momento per cui è molto complicato riuscire a districarsi in questa confusione ecco per cui c'era bisogno innanzitutto certo di un cartone animato che avesse dei ritmi e delle luci e dei colori e dei suoni che fossero giusti per loro ma in realtà anche il tema è molto interessante perché noi io ho inventato un mondo in cui c'è il nostro Leo si chiama il mondo di Leo che deve affrontare ogni volta un problema che è un problema anche per un bambino neurotipico vi faccio degli esempi una puntata è che non vuole andare a scuola un'altra volta non vuole mangiare i broccoli un'altra volta non vuole fare la fila quando davanti allo scivolo perché dice che tocca sempre a lui non si vuole lavare non vuole andare dal dottore oppure nel compleanno non vuole sia amici perché non vuole che tocchino i suoi giochi quando le cose non vanno come lui si aspetta ecco per un bambino autistico quando le cose escono dalla regola che lui si è dato dalla routine è un guaio grosso ma in realtà anche io ho dei nipoti di 6 anni gli ho promesso che andavamo al cinema quel giorno non ci sono potuto andare anche per loro è stato un problema il fatto che io avessi cambiato i programmi anche per gli adulti anche per gli adulti esatto e quindi forse è questa la forza di questo cartone animato che è studiato per i bambini con autismo ma che poi in realtà è diretto e parla benissimo anche ai bambini neurotipici è andato così bene che ci hanno proposto di farne una nuova una nuova stagione quindi ora sto lavorando proprio a quello ma è stato meraviglioso io come esercizio anche in fondo ho cominciato a frequentarne tanti di bambini con autismo e ho scoperto un sacco di storie meravigliose come vi raccontavo di un ragazzo che fino a 7 anni non riusciva a parlare che ora sta raccontando a 22 anni quello che non riusciva a dire in quel momento alla mamma ho incontrato Paolone che è un omone gigante di 60 anni che disegna finché non consuma tutto il pastello a cera per cui fa delle risme di micidiali insomma ne ho incontrati tanti e ho cominciato a pormi nei loro confronti nel modo in cui forse credevo che fosse il modo migliore loro come dicevate voi non sono speciali anzi loro sognano di essere normali di essere considerati normali come tutti gli altri raccontami un po' quando hai pensato questa cosa hai trovato terreno fertile e subito o c'è stata della diffidenza anche nel proporre la realizzazione di questo progetto erano maturi tempi oppure li hai fatti maturare tu in realtà un po' tutte e due le cose è un mondo che ho creato è un mondo in cui Leo va in un mondo parallelo diciamo in cui c'è un suo peluche e lui va sempre anche col suo cane Lola ma anche col peluche Babu Babu in fondo è l'adulto è l'operatore è lo psicologo con cui questi bambini hanno spesso a che fare e gli dimostra come si può risolvere quel problema in modo molto divertente quindi quando lui torna nella realtà sa come affrontare le cose con tutto un altro spirito questo è un meccanismo che funziona e in realtà tutti si sono sorpresi hanno detto la stessa cosa che ho detto io quando me l'hanno detto ma nessuno ci ha mai pensato siete sicuri abbiamo controllato in realtà non c'era un cartone animato appuntate ci sono vari esperimenti che raccontavano al mondo quello che è il mondo dell'autismo ma non un cartone animato in cui il protagonista fosse un bambino con autismo io credo che la cosa interessante sia non solo che il cartone specifico per loro ma che questo cartone racconta gli altri bambini chi sono quei bambini che loro hanno in classe e che sono un po' rumorosi un po' fastidiosi che a volte sono buffi a volte sono molto invece sono anche cattivi perché a volte si arrabbiano perché non riescono a dire quello che vorrebbero ecco quindi mi sembra che sia interessante che per raccontare agli altri bambini chi sono questi che c'hanno attorno e devo dire che noi abbiamo avuto subito un grande accoglienza dalla RAI sono stati subito entusiasti del progetto è un progetto che si sta creando perché poi credo che raggiungerà anche i canali di altre parti del mondo perché perché è come se tutti stessimo aspettando qualcosa che nessuno però poi ancora aveva cominciato ma che era come dici tu era proprio il momento era il momento giusto di parlare di questo perché non so se lo sapete ma c'è un bambino con autismo ogni 77 e i numeri sono così alti non solo perché adesso sì non solo perché adesso c'è un'analisi diversa ma perché pare che stia succedendo qualcosa che gli sta aumentando questi casi e allora credo che fosse necessario prenderci cura anche di queste persone e come dicevi tu le mamme sono entusiaste ci ringraziano perché dice per la prima volta qualcuno si occupa dei nostri figli loro vivono molto isolati c'è poi una legge italiana che dice che quando loro compiono quando questi bambini compiono 18 anni è come se guarissero non hanno più diritto sì non hanno più diritto a niente non hanno più cure sanitarie è come se all'improvviso da un giorno all'altro con più di 18 anni finisse il problema no? e quindi loro si trovano da soli ad affrontare questo problema per fortuna molte volte formano delle cooperative in cui poi ci sono degli operatori ho conosciuto delle esperienze meravigliose in cui i ragazzi con autismo vivono con i ragazzi down con degli operatori in appartamenti o in delle case in 4 o 5 insomma c'è un modo di prendersi cura di queste persone di parlare di loro in qualche modo io dico di di normalizzare quello che sta diventando un nuovo punto di vista sulle cose senti all'estero neanche c'erano esperimenti di questo genere? no ci sono film cioè ci sono cartoni animati magari lunghi ma ho anche film ma non c'era niente che fosse studiato specificatamente per loro Nicolai veramente complimenti grazie tanto grazie tanto guarda veramente io mi sento un uomo fortunato perché è un altro pezzo della mia vita che si è arricchito di un'altra cosa così importante quindi io sono davvero fortunato c'è una domanda che cos'è questo qualcosa che li fa aumentare secondo me qui tu hai hai tirato fuori la questione stiamo parlando di un orizzonte di senso che si sta aprendo ci sono degli studi ci stiamo lavorando qualcosa che effettivamente conosciamo fino ad un certo punto forse beh sì in realtà per esempio la sindrome di Asperger che è la forma di autismo più leggera più lieve in qualche modo abbiamo scoperto che riguarda tantissimi che non sapevano poi di averlo quando è stato analizzato il problema adesso è stato scoperto anche un gene sono quasi cento i geni che hanno scoperto fino ad oggi che possono influire su questa cosa in realtà ed è la cosa più incredibile è che anche i medici più importanti i scienziati i famosissimi non sanno ancora perché succede non c'è ancora una base scientifica su cui poter dire perché c'è perché non c'è però conoscendo quali sono i geni che intervengono in questo in questo fatto tu puoi saperlo fin da subito senza fare tanti esperimenti pratici se c'è quel gene all'interno del DNA di quel bambino vuol dire che che purtroppo c'è quel tipo di situazione però ho visto un sacco di video in cui ho scoperto che più si agisce prima più il problema viene risolto non dico risolto ma viene reso più lieve quindi in realtà molte famiglie che all'inizio invece non riescono ad accettare la cosa quindi dicono che il loro figlio è molto tido che il loro figlio non riesce a rapportarsi con gli altri in realtà capisco che è molto faticoso per un genitore pensare che il figlio non corrisponde alle aspettative che loro si erano fatte su di lui soprattutto è faticoso per un genitore pensare a un figlio che avrà molte difficoltà quando lui non ci sarà più ecco quindi sollevare il problema e parlare di questo credo che sia un ottimo passo avanti ovviamente questo non è un cartone che parla di tutti i tipi di autismo dei più complicati non è questo non è un cartone che vuole risolvere né raccontare scientificamente qual è il problema cos'è l'autismo in qualche modo però vuole raccontare agli altri quel mondo di quei bambini eh sì perché tra l'altro no scusami non dico che spesso nelle famiglie questo comporta dei grandi squilibri no perché le madri devono spesso rinunciare al lavoro perché comporta squilibri anche all'interno del rapporto con gli altri fratelli che in fondo soffrono di tra virgolette di gelosia perché vedono che questi figli hanno molte attenzioni che loro spesso poi invece si sentono di non avere in qualche modo e poi qua anche lo squilibrio lo squilibrio tipo economico anche fa tanta la differenza perché famiglie che possono permettersi di fare cure molto precoci o comunque terapie no di certamente come dicevi tu i problemi si affrontano in un altro modo rispetto insomma a delle situazioni invece è incredibile io ho visto gli elaborati di un gruppo vasto di bambini di ragazzi con autismo prima del covid e dopo il covid ed è incredibile quanto si è cambiato il fatto che loro non abbiano avuto per un lungo periodo l'assistenza che avevano prima e quanto siano tornati indietro in un brevissimo tempo perché per alcuni mesi non hanno avuto le persone che li sono state accanto elaborando una serie di esercizi di cose fatte apposta per loro su questo secondo me Nicola c'è una sorta di doppio movimento da una parte c'è la percezione che i casi siano in aumento costante perché riusciamo a definirli a dare una diagnosi cosa che fino a qualche anno fa forse era più difficile dall'altra però sentiamo parlare quasi esclusivamente di bambini e bambine con autismo come se da adulti questa cosa sparisse ah no ne ho conosciuto alcuni di 70 anni certo però c'è evidentemente anche un lavoro che è possibile fare che consente ed è il lavoro appunto che stiamo cercando in qualche modo di raccontare che è questo di una professione si sai credo che sia quello che poi tu fai anche con gli altri ragazzi c'è trovare qual è la loro peculiarità c'è sempre una peculiarità in ognuno di loro come c'è in ognuno di noi e lavorare su quello perché quello li rende felici allora sì che quello li rende diversi ma diversi in modo positivo Nicola ti volevo chiedere se hai avuto modo di presentare il cartone o di incontrare nelle scuole ragazzi bambine e bambini di qual'età come no nelle scuole ancora no abbiamo fatto una serie di presentazioni sabato a Lucca l'abbiamo presentato al cinema con il sindaco assessori vari perché perché è un argomento che quando lo sollevi tutti sono molto interessati ne abbiamo fatto un libro il battello a vapore ne ha fatto un libro del cartone animato che è il primo che abbiamo fatto della serie e credo che abbia avuto un buon successo perché in fondo come dicevamo va bene anche per un pubblico di bambini neurotipici però è un tema che credo che io tratto anche quando vado nelle scuole io parlo della mia di diversità io sono nato con un grosso problema alle gambe sono nato con un difetto di fabbrica molto grosso mi sono operato otto volte alle ginocchia quindi è un tema che mi tocca sempre profondamente perché io conosco benissimo il viso che hanno gli altri quando tu non corrispondi alle aspettative che ci avevano su di te quando tu sei difforme dagli altri ecco essere difforme una cosa che è faticoso da accettare e a volte questi ragazzi sanno di essere ragazzi diversi dagli altri sanno di essere ragazzi autistici e quindi c'è anche bisogno di un tempo perché loro lo capiscono e cosa vuol dire essere diversi dagli altri io l'ho imparato con un'esperienza che a volte è stata drammatica a volte un po' meno però mi sono reso conto che è lo sguardo che noi poniamo sugli altri che cambia le cose mia nipote ha fatto una festicciola e c'era una bambina con autismo aurora meravigliosa che su un gonfiabile si è bloccata a metà e non faceva più salire gli altri ma non era un fatto di egoismo perché lei era terrorizzata di arrivare fino in cima mia nipote ha avuto un colpo di genio e salita con lei l'ha presa per mano e sono arrivati insieme a questo scivolo gonfiabile sulla cima e si sono buttate insieme per mano ecco questa cosa che ha fatto scoppiare a piangere dall'emozione la mamma di Aurora perché era la prima volta che qualcuno spontaneamente si prendeva cura di sua figlia come se fosse una bambina come gli altri ecco la normalità di cui parlavamo prima allora forse è questo ascoltarli quando possiamo ma includerli il più possibile per farli sentire come gli altri perché questo è quello che manca a queste famiglie anche invitarli a casa ogni tanto so che sono spesso bambini complicati bambini difficili ma forse si può trovare un'esperienza un modo anche per invitarli a casa un pomeriggio e fargli stare con gli altri bambini e questo alleggerisce anche molto il peso delle famiglie eh già eh già grazie veramente Nicola grazie a voi oggi ho vi ascoltato con grande piacere ho imparato anche un sacco di cose per cui me ne vado via molto arricchito grazie è una fortuna perché Daniele è veramente preziosissimo quando per quello li voglio bene sai perché è prezioso quando i suoi incontri partono sempre da dei punti arrivano in altri tu dici ma come siamo arrivati qui eppure il pensiero si si snocciola ed è sempre prezioso come dicevi tu Nicola ci sono un sacco di complimenti per te naturalmente anche tante persone che seguono già la serie quindi non ti chiedo spoiler sulla sulla seconda no ma sai i problemi che devono affrontare i bambini sono così tanti che c'è un sacco di puntata assolutamente allora io guardo se ci sono domande che ovviamente ok ci sono tantissime domande sul fatto di essere diversi ma uguali di lavorare su questa su questa diciamo tema di cui abbiamo affrontato ampiamente durante la nostra chiacchierata per cui io chiederei di mandare le ultime slide che sono quelle dei prossimi appuntamenti vi chiedo di seguirci sempre su mondadoreeducation.it primariamente perché abbiamo ancora tantissime cose da raccontarvi tantissimi progetti da fare insieme tantissimi autori da conoscere e da con cui chiacchierare e con cui diciamo fare dei percorsi per per arricchire ulteriormente il nostro bagaglio di educatori ovviamente il prossimo appuntamento di Daniele non perdetelo perché sarà molto interessante sulla legalità che è uno dei temi a cui Daniele ha riservato anche parecchi libri e quindi sono molto curiosa da questo punto di vista di vedere la partenza dove andiamo a finire poi ci tenevo a dirvi che Daniele Arezzarco è anche nel nostro studiario che nel studiario del 23 abbiamo due interviste in cui lo incontriamo e uno di queste proprio riguarda la giustizia quindi con questo vi lascio vi ringrazio di aver partecipato a questo webinar così numeroso siamo arrivati fino a 900 contatti quindi sicuramente entro stasera arriveranno a 1500 e 2000 come da tradizione per noi quindi riceverete tutti coloro che partecipano come vi dicevo le slide e bellissimi podcast che Daniele sta preparando per noi di cui non vi posso dire niente perché ancora anch'io non l'ho sentito questo e quindi lo aspetto con ansia perché poi è veramente un piacere i podcast sono pensati per i bambini questo e le bambine quindi ci tengo a dire che non sono un materiale da tenersi ad ascoltare mentre si va in macchina e si torna e si va a scuola ma sono da condividere con la classe per riflettere su questi temi o per attivarli o per fare un recap dopo averne parlato insieme quindi allora ringrazio tantissimo Nicola di averci così raccontato questa sua esperienza ringrazio Nicola per tutto quello che fa e per i libri che scrive perché veramente sono dei discrigni anche questi che aprono dei mondi e poi ovviamente Daniele che è mio partner in questa in questa carrellata bellissima dell'educazione civica ci vediamo presto e buona serata a tutti e buon appetito direi a quest'ora a presto arrivederci a o a Grazie a tutti.